In questa edizione abbiamo intervistato l'On. Montali, segretario politico della UILS, Unione Imprenditori Lavoratori Socialisti. Intervista ad Antonio Gasparo, presidente della UILS sulla guerra in Ucraina. Bentornati al TG Proposte WILS, passiamo ora alle notizie. Politica nazionale. Espulsi 30 diplomatici russi. Tale misura, assunta in accordo con altri partner europei e atlantici, si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale, nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all'ingiustificata l'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Ha spiegato così il ministro Di Maio. La risposta di Mosca non si è fatta attendere con la minaccia dell'assunzione di analoghi provvedimenti. Continuiamo con la politica nazionale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla presidente della campagna italiana contro le mine Onlus, Santina Bianchini, in occasione della giornata internazionale per l'azione contro le mine e gli ordini bellici inesplosi, scrive. E' questo un tempo che ci fa comprendere ancora meglio il valore della convivenza pacifica, del rispetto delle convenzioni internazionali tese a ridurre l'impatto delle guerre sulle popolazioni, della cooperazione tra popoli. Fermare le guerre e le distruzioni è possibile, affermando in ogni dove le ragioni della civiltà umana alle quali noi intendiamo derogare. Le mine anti-uomo sono un crimine contro l'umanità. E ora l'intervista all'Onorevole Montali, servizio di Alessia Pinali-Monti. Siamo con l'Onorevole Montali, segretario politico della Wils, Unione Imprenditori e Lavoratori Socialisti, a cui chiediamo qual è il progetto politico della Wils. Il progetto politico dei socialisti è un progetto a lungo termine naturalmente, ma essendo io un professionista della formazione, perché sono andato in pensione sempre da professore delle scuole medie superiori e quindi ho avuto sempre contatti con i giovani, quindi è un progetto che è iniziato all'epoca in cui ho cominciato a insegnare e che continua, è quello di formare i giovani, soprattutto in questa situazione nuova che viene determinata, tanti fatti che accadono e che non impegnano direttamente i giovani se non sostenuti da iniziative come quella che noi vogliamo fare con la Wils, appunto la Unione Imprenditori e Lavoratori Socialisti. I giovani naturalmente sono quelli che interessano molto di più degli altri in questa prova di formazione che noi vogliamo portare avanti, quindi far conoscere la storia del Partito Socialista, la storia dei socialisti e chi sono stati i socialisti e quelli che potranno essere nel limite del futuro. Naturalmente scendendo le responsabilità della formazione da quella che dovrebbe essere la formazione di partito e purtroppo noi dobbiamo constatare che non è solo un fatto del Partito Socialista ma è un fatto che riguarda tutti i partiti che una volta aveva una funzione importante nella formazione appunto dei giovani verso gli interessi del loro paese e quindi degli impegni che si riassumono di volta in volta a maturazione continua da parte dei giovani stessi. Quindi i giovani oggi nel Partito Socialista non sono assolutamente formati come non sono formati negli altri partiti e quindi è importante che ci siano iniziative esterne capaci di poter superare questo ostacolo che c'è totalmente nel Paese. Per quello che ci riguarda per esempio abbiamo conoscenza continua dell'atteggiamento delle forze politiche che ha portato da parte dell'opinione pubblica nazionale un disimpegno culturale. Adesso nessuno pensa a un partito capace di formare dei giovani perché vadano alla gestione del potere in maniera come viene così pensata e sostenuta da chi ha questi compiti di formazione culturale. Per esempio bisogna che i giovani sappiano che sono stati socialisti nel tempo, nella storia, cioè ricordare chi era Matteotti per esempio ma ancora più recentemente, chi è stato Graxi ma chi è stato soprattutto Bertini, l'uomo che è stato apprezzato da tutti nel secolo in cui ha vissuto e che appunto i giovani devono imparare a conoscerlo per poter partecipare a questa iniziativa importante che è l'associazione di cui io mi onoro di essere responsabile politico sta facendo ormai da tempo. Quindi questo impegno che vogliamo continuare anche perché dobbiamo sostituire il Partito Socialista, nel sostanza Partito Socialista negli ultimi anni diciamo più che impegnarsi alla formazione della cultura socialista nei giovani si è impegnato a rispondere agli interessi magari delle singole rappresentanze e questo ha creato una diffusione difficile da superare se pensiamo che per esempio oggi stiamo tentando di mettere insieme tutte le anime socialiste abbiamo grosse difficoltà perché ci sono più formazioni politiche, ognuno che rivendica il proprio ruolo senza però andare ad un momento di unificazione che possa far riapparire magari nei dibattiti politici i numeri della sua rappresentatività. Ogni settimana ci sono in campo televisivo o della radio eccetera si discute di quante siano le presenze stabilite dai partiti attuali momento per momento si diceva partito democratico è il 20 per cento non solo partito non solo partito possiamo dire anche un'altra formazione diversi non compare il Partito Socialista ma non compare il Partito Socialista perché il partito come partito non esiste perché diciamo le poche rappresentanti le sostanze del Partito Socialista sono all'interno del Partito Democratico che evidentemente non ha nessun interesse a far vedere un'immagine del Partito Socialista quindi il nostro impegno è rivolto a colmare questa lacuna e speriamo che al più presto si possa essere diciamo la possibilità di creare, forgiare, formare i giovani socialisti che siano in grado poi di competere a livello istituzionale nel diffondere le proprie conoscenze in modo da ricreare quella speranza nel futuro che un Partito Socialista lo veritiero può sempre rappresentare la ringraziamo molto adesso la linea torna allo studio passiamo ora la politica romana sono giunti a Roma i 50 rifugiati portati in salvo dall'Ucraina nell'ambito della carovana di pace italiana Stop the War Now l'iniziativa promossa da Arci Solidarietà, Arcs e Aoi in collaborazione con Roma Capitale è un esempio di sinergia positiva che è riuscita a garantire protezione e a mettere in salvo donne, bambini e anziani molti dei quali anche con gravi disabilità questi in fuga dalla città di Inipro ai confini col Donbass e tra le zone più colpite dal conflitto dopo la segnalazione da parte della Caritas locale della presenza di un elevato numero di persone fragili intenzionate a raggiungere il nostro paese si è attivata una generosa gara di solidarietà anche grazie al supporto di Don Giuseppe Satriano Arcivescovo della Diocesi di Bari presente a Leopoli con la carovana in stretta collaborazione con la protezione civile e la Regione Lazio spiega l'assessore alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari abbiamo seguito fin dall'inizio questo viaggio per garantire e individuare una soluzione di accoglienza adatta a ciascuno di questi complessi casi, molti con gravi disabilità l'iscrizione al servizio di trasporto riservato scolastico per l'anno 2022-2023 dovranno essere inoltrate dal 4 aprile al 13 maggio 2022 la domanda può essere presentata esclusivamente online da uno dei due genitori o esercente responsabilità genitoriali o affidatario dell'allunno la scuola di legalità, mafie e non solo evento organizzato lunedì 4 aprile dall'assessorato politiche scolastiche e giovanili sport e legalità del municipio 7 per dare l'avvio ad un percorso di condivisione con tutte le realtà territoriali per valorizzare il ruolo della scuola come primo presidio della cultura antimafia dell'educazione alla legalità e della prevenzione del disagio giovanile in ogni sua forma Passiamo ora alle notizie di politica economica La pressione fiscale nel quarto trimestre del 2021 ha raggiunto circa il 52% in aumento del 0,7% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente Lo rivela l'Istat che aggiunge che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato nel quarto trimestre del 2021 dell'1,3% rispetto al trimestre precedente mentre i consumi sono cresciuti dell'1,2% Un esposto presentato da Adconsum Sardegna in seguito a diverse denunce di risparmiatori sardi ha indotto l'antitrust ad aprire un'istruttoria nei confronti di poste italiane per pratiche commerciali scorrette in merito a carente informazione resa agli utenti circa i termini di scadenza dei buoni fruttiferi postali e delle conseguenze in caso di mancata richiesta di rimborso entro i termini di prescrizione che hanno indotto in errore numerosi risparmiatori portandoli a perdere tutti i risparmi investiti Violet Caricaburo ha intervistato Antonino Gasparo, presidente della UILS per sapere cosa ne pensa il movimento sulla guerra in Ucraina Vediamo il servizio Abbiamo qui con noi il presidente della UILS Antonino Gasparo a cui chiediamo cosa ne pensa il movimento della guerra in Ucraina Questa guerra è stata una guerra inopportuna Secondo il mio modo di vedere il nostro governo non si è adoperato adeguatamente a proporre iniziative tali da discutere certamente in Europa affinché potessero dare del direttivo o dei consigli affinché questa guerra non avvenisse Oggi la situazione non è tanto diciamo buona ma magari perché si credeva che questo episodio terminasse in poche settimane invece qui i tempi si stanno allungati e non finisce in questo modo E questo perché? Perché la nostra politica, la politica europea non ha agito nella maniera adeguata per come doveva agire certamente parlare si è molto semplice trovare le soluzioni dopo nei fatti si capisce che i problemi sono in maniera diversa naturalmente però si deve capire che la Russia Putin è una persona molto astuta intelligente di una furbizia non indifferente e quindi le risposte che si danno a questi uomini di grande elevatura e importante si devono adeguare in maniera adeguata ad esempio visto che Putin ha adoperato in un certo modo ha sfidato il mondo intero con invadendo l'Ucraina la l'Europa unita tutti e 27 paesi quelli che so che ne fanno parte dovevano dare una risposta adeguata se noi andiamo a vedere la risposta adeguata e qual è la risposta adeguata la Russia ha voluto dimostrare la sua potenza la sua grandezza la sua forza di mettere come dire in difficoltà l'Europa e il mondo intero questa è stata un'azione di forza quindi si risponde con non con una forza armata ma con una forza di dire stiamo ragioniamo perché dimostra la forza possiamo l'Europa potrebbe dimostrare un'altra cosa cioè vorrei portare un esempio di siconella e quando nell'ottantacinque ottobre ottantacinque gli americani avevano fatto attirare un aereo che sopra c'erano dei terroristi all'epoca c'è stato il governo grax e che si oppose all'america e quindi che non voleva far partire i terroristi perché l'episodio è successo in Italia e quindi in Italia ci dovevano essere dopo il processo fatto il terrorista mentre invece Reagan allora impose ai loro ai marinesi di circondare i nostri soldati i dati per voi puntati i mitra e qui crack viene informato e diede immediatamente e disposizione di circondare i marinesi di parlando dopo con il presidente Reagan all'epoca disse se non essendo che l'episodio è successo in Italia ed è competenza del governo italiano il governo italiano è sovrano quindi il processo si farà qui in Italia e all'epoca Reagan non voleva detraggiare aveva detto ai marinesi che dovevano portare i terroristi fuori e nel discorso che c'è stato con Reagan alla fine Reagan ha fatto un passo indietro perché sono stati i marinesi circondati dai nostri rabbinieri e dai nostri forze di polizia e di dopo che c'è stato questo dibattito molto forte il Reagan ha fatto partire lasciando ostaggi e lì a quell'epoca è successa anche la crisi di governo però il governo italiano ha avuto una grande rilevanza a livello internazionale ne ha parlato tutto il mondo quindi stiamo scusi parlando di strategie diplomatiche ma forte più incisive magari rispetto a quello che sta succedendo e così doveva fare in questo modo doveva fare l'Europa senza fare un conflitto armato ma tutti assieme dovevano circondare diciamo le forze russe ma senza fare come simbolo di pace dire fate smettiamo ragioniamo troviamo una soluzione senza creare vittime io ricordo la guerra perché sono del 1035 quindi l'ho vissuta perfettamente e so benissimo che cosa stanno succedendo e che cosa è successo qui in Italia i morti che ci sono stati io ero un ragazzo ma ricordo benissimo era una tragedia e questa tragedia la stanno vivendo la stanno vivendo adesso l'Ucraina ma anche i soldati russi perché anche loro sono dei giovani che stanno hanno perso la vita ed è ingiusto ed è responsabile di tutti i paesi non soltanto la Russia tutti indistintamente perché non abbiamo saputo non abbiamo saputo educare educare le nuove generazioni a bandire la guerra la guerra la guerra non dovrebbe esistere e quando il presidente della Repubblica Sandro Bertini in un discorso fatto alle Nazioni Unite lo disse 40 anni fa oggi si sta a ripetere disse badate bene distruggete le alme nucleare tutte le destate nucleare distruggetele perché sono fonte di malessere sono fonte che portano alla distruzione quindi oggi purtroppo noi non abbiamo un governo adeguato come è stato nei tempi che furono e questo secondo secondo un mio modo di pensare è stata una politica che hanno voluto indebolire i governi affinché le grandi potenze potessero fare dopo quello che ritenevano più utili alle loro convenienze va bene la ringrazio e ricorderete il caso di Patrick Zaki il ricercatore egiziano dell'università di Bologna accusato di diffusione di notizie false ai danni dell'Egitto ebbene il suo processo in corso a Mansur è stato aggiornato al 21 giugno nonostante si sia arrivati già alla quinta udienza dopo 22 mesi di custodia cautelare e la scarcerazione avvenuta l'8 dicembre scorso l'attivista per i diritti umani è libero ma non può tornare ancora in Italia i legali di Zaki auspicano un intervento della Farnesina per trovare una soluzione soddisfacente per il ricercatore due filorussi e conservatori vincono nuovamente le elezioni nei rispettivi paesi Orban in Ungheria per il quarto mandato e Vucic in Serbia per il secondo mandato Orban con oltre il 70% dei voti ha dichiarato questa nostra quarta vittoria consecutive è la più importante perché abbiamo conquistato il potere contro un'opposizione che si era alleata si sono alleati tutti e noi abbiamo vinto lo stesso ha detto trionfando poi ha continuato abbiamo vinto anche a livello internazionale contro il globalismo contro Soros contro i media mainstream europei e anche contro il presidente ucraino la linea ora a Violet carica del lavoro bene anche per questa edizione è tutto per avere maggiori informazioni proporci nuove idee o iniziative potete contattarci al numero 06 98 26 24 35 oppure iscriverci alla nostra mail redazione wilschiocciolagmail.com o tramite i nostri social network facebook e twitter iscrivetevi al canale e attivate la campanella arrivederci alla prossima edizione grazie a tutti